Il decreto di economia e finanza varato dal governo Renzi che riporterà fino a 80 euro in busta paga al mese a chi guadagna meno di 1.500 euro non piace alla CISL. Il segretario generale Bonanni è intervenuto oggi a Milano sul provvedimento pur elogiando le misure su IRPE, fetaglio degli stipendi per i manager pubblici che non potranno guadagnare più del presidente della Repubblica. Bonanni attacca il governo per le mancate misure sullo sviluppo come nel settore delle infrastrutture dove cala il numero totale degli investimenti. Allo stesso tempo Bonanni spiega che c'è un silenzio totale sulla condizione di chi lavora a partita IVA e sui precari. Oltre l'iniziativa anticiclica degli 80 euro, che è un'iniziativa anticiclica e importante, non ci sono elementi che riportano a un aspetto per noi fondamentale che è lo sviluppo e lo sviluppo si provoca attraverso interventi sull'economia. Noi riteniamo l'energia sia molto importante, le infrastrutture, le tasse troppo alte per chi investe. Tra gli argomenti caldi anche la situazione degli aeroporti in Lombardia. L'arrivo degli arabi di ETA di Nalitalia viene considerato un motore di sviluppo. A breve sarà chiuso l'accordo che potrebbe portare un aumento dell'occupazione anche negli scali milanesi. Un'operazione importante secondo Bonanni che arriva dopo anni in cui l'azionariato di Alitalia, soprattutto per la presenza di Air France, ha bloccato l'espansione sul mercato internazionale. L'accordo vero che si sta delineando con gli arabi è un accordo importante. Se dovesse farsi questo probabilmente in breve tempo avremo la possibilità di rilanciare l'occupazione del mercato aereo. Non è mancata poi una stoccata nei confronti del Presidente del Consiglio Matteo Renzi troppo simile nei modi al suo predecessore Silvio Berlusconi. A me non convince molto, il piglio fa da me, ho sentito mesi addietro un altro che diceva in dialetto lombardo, no? Che pensi mi? Non mi piace questo modo di ragionare, non serve a un paese che ha i guai come l'Italia, nessuno da solo può risolvere niente in Italia.